E' atterrato ieri sera l'aeroporto di Pescara, dopo sei anni trascorsi in Siria tra propaganda e addestramento, la conversione all'Islam ancora minorenne, la progressiva radicalizzazione fino alla partenza nel 2014, direzione Guerra Santa. Ha aderito all'ideologia al-Qaeda, quindi al-Qaeda, gruppo Jabhat al-Nusra. Lui è un ragazzo di 24 anni, cresciuto in Svizzera, ma di origini abruzzesi, provincia di Pescara, da cui vengono nonni e genitori, dove trascorre le vacanze. Se padre di quattro figli, il percorso della Gihad lo condivide con la moglie, cittadina tedesca di origini turche. E' stata interessante e importante e complessa per le difficoltà, naturalmente, di svolgere un'indagine su fatti che avvengono in un territorio che non è nemmeno europeo, è la Siria. Accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo e stigazione, il giovane europeo diffondeva il suo credo anche sui social ed è lì che hanno agito gli inquirenti attraverso intercettazioni e analisi dei siti internet. Un'attività investigativa particolarmente complessa che ha portato, dopo una lunga fase diplomatica, anche a livello internazionale, anche all'estradizione del soggetto, da ieri sera in un carcere italiano.